Wild Warriors Ninja Arms Sconfiggi i malvagi con i loro superpoteri Allunga le braccia e le gambe dei ninja Per creare combattimenti epici Scopri le loro armi segrete E sconfiggi i nemici con mosse davvero ninja Collezionali tutti Wild Warriors Ninja Arms In edicola e nei negozi di giocattoli Baba!